L'ordine segreto, mistico, esoterico dei Rosacroce L'ordine dei Rosacroce è un ordine segreto, mistico, esoterico che ha avuto un'influenza significativa sulla cultura occidentale. L'ordine è stato fondato nel XVII secolo in Germania, ma le sue origini sono ancora oggetto di dibattito. I Rosacroce affermano di essere una società segreta che esiste da secoli e che custodisce una conoscenza antica e segreta. Questa conoscenza è basata sull'ermetismo, una filosofia che combina elementi di cristianesimo, gnosticismo, cabala e alchimia. I Rosacroce credono che l'uomo sia un essere divino che ha il potenziale per raggiungere la perfezione spirituale. Sostengono che la conoscenza esoterica può aiutare l'uomo a raggiungere questo obiettivo. L'ordine è organizzato in gradi, con ogni grado che rappresenta un livello di conoscenza e comprensione superiore. I membri dell'ordine si incontrano regolarmente per studiare e praticare la filosofia rosacrociana. Storia dell'ordine dei Rosacroce La prima menzione dell'ordine dei Rosacroce risale al 1614, con la pubblicazione di due manifesti, Fama Fraternitatis e Confessio Fraternitatis. Questi manifesti affermavano che l'ordine era stato fondato da un gruppo di uomini saggi e illuminati che avevano scoperto il segreto dell'immortalità. I manifesti ebbero un'enorme risonanza in tutta Europa e provocarono un'ondata di interesse per l'ordine. Numerose persone affermarono di essere membri dei Rosacroce, ma la vera natura dell'ordine rimase avvolta nel mistero. Nel 1615 fu pubblicato un terzo manifesto, Chimischiozeit-Cristiani-Rosenkraut, che raccontava le avventure di un giovane Rosacroce di nome Christian Rosenkraut. Questo libro fu un successo editoriale e contribuì a diffondere la fama dell'ordine. L'esistenza dell'ordine dei Rosacroce è stata oggetto di dibattito per secoli. Alcuni storici credono che l'ordine sia stato un'invenzione, mentre altri credono che sia stato un vero ordine segreto. Insegnamenti dei Rosacroce Gli insegnamenti dei Rosacroce sono basati sull'ermetismo, una filosofia che combina elementi di cristianesimo, gnosticismo, cabala e alchimia. I Rosacroce credono che l'universo sia governato da leggi divine che possono essere compresse attraverso la conoscenza esoterica. Sostengono che l'uomo è un essere divino che ha il potenziale per raggiungere la perfezione spirituale. Gli insegnamenti dei Rosacroce possono essere riassunti in quattro punti principali. La realtà è una manifestazione di Dio. L'uomo è un essere divino. La conoscenza esoterica può aiutare l'uomo a raggiungere la perfezione spirituale. L'obiettivo dell'uomo è trascendere la materia e raggiungere l'unione con Dio. Messaggio dei Rosacroce Il messaggio dei Rosacroce è un messaggio di speranza e di possibilità. I Rosacroce credono che l'uomo abbia il potenziale per raggiungere la perfezione spirituale e che la conoscenza esoterica può aiutare l'uomo a raggiungere questo obiettivo. Il messaggio dei Rosacroce ha avuto un'influenza significativa sulla cultura occidentale. I Rosacroce hanno contribuito a diffondere l'interesse per l'ermetismo, l'alchimia e la filosofia esoterica. Il loro messaggio ha anche contribuito a ispirare movimenti spirituali come il New Age. Conclusione L'ordine dei Rosacroce è un ordine segreto, mistico, esoterico che ha avuto un'influenza significativa sulla cultura occidentale. I Rosacroce credono che l'uomo sia un essere divino che ha il potenziale per raggiungere la perfezione spirituale. La loro conoscenza esoterica è basata sull'ermetismo e ha contribuito a diffondere l'interesse per questa filosofia.